Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì, benissimo. Bene, bene, buona giornata. Sì, è un libro un po' particolare, ne parliamo tra pochissimo. Intanto vi ringrazio tutti per questo riconoscimento. È molto apprezzato, sono molto onorato. Sì, in questo momento è un po' particolare per tutti noi e parlare di internet credo che sia altrettanto importante. Il libro, e quindi iniziamo a parlare del libro, anche se vorrei parlare di altro, però serve per introdurre quello che vorrei dire. È un libro un po' particolare perché è a metà strada tra un romanzo e un saggio, perché inizia come un romanzo, il protagonista si sveglia un mattino e scopre che per motivi di sicurezza internazionale internet è stato bloccato. Quindi immaginate quello che può succedere senza internet. Vanno in fumo anni e anni di scoperte, non funziona lo streaming, YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, niente più foto sui social, niente cloud. Per spedire una lettera occorre tornare all'ufficio postale, perché non si possono più utilizzare nemmeno le mail. Per un bonifico bisogna recarsi necessariamente in banca e quindi il computer, niente, non si può fare più nulla, né acquistare la merce come facciamo oggi su Amazon, eccetera. E anche per le vacanze non possiamo più organizzare nulla, non possiamo utilizzare TripAdvisor, non si potrebbe nemmeno fare questo collegamento, questa premiazione attraverso Zoom. E quindi dalla grande rivoluzione digitale si torna indietro col tempo. Ma è un pretesto questo, quello che riguarda la parte romanzata appunto, per parlare di quelli che sono gli effetti di internet, che oggi è indispensabile, ma che in qualche maniera ci toglie anche un po' degli spazi che avevamo prima della sua esistenza. E quindi ci sono poi dei focus e degli approfondimenti su quelle che sono alcune caratteristiche del web che tolgono sicuramente delle cose alle nostre persone, come ad esempio la privacy, o come dei momenti di solitudine che a volte non fanno male, come ad esempio l'agrettura di un buon libro. Oggi si, per fortuna, forse anche per quello che sta accadendo, tra lockdown, vari eccetera, si tornano ad acquistare i libri, ma per molto tempo insomma i libri hanno sofferto molto, anche a causa di internet. E allora bisogna recuperare degli spazi che internet ci ha tolto. Io penso che è importante fare questa riflessione anche alla luce di quello che è diventato oggi internet. Credo che il momento che stiamo attraversando, che è un momento particolarmente difficile per questa pandemia, abbia in qualche maniera segnato un passaggio, che è un passaggio importante, da un mondo che noi dividevamo prima tra mondo virtuale e mondo reale, perché internet esiste da un po', a un mondo che oggi mescola quello che è realtà e virtualità. Oggi è tutto un insieme, infatti noi stiamo vivendo questo periodo e anche in questo momento, il momento in cui stiamo parlando, stiamo parlando attraverso internet e questa in realtà non è più virtualità. E quindi abbiamo fatto una serie di approfondimenti in un momento tra l'altro delicato, come quello che stiamo attraversando. E a proposito di questo momento e anche delle polemiche, che ho seguito anche prima alcuni interventi che riguardano il mondo del teatro, il mondo dello spettacolo poi in generale, ma che credo riguardino un po' tutti. E secondo me bisognerebbe accantonare un po' di polemiche, rimboccarci le maniche e guardare avanti, guardare al futuro. E' chiaro che il lockdown impone delle limitazioni, i teatri chiudono e questo è un disastro. Si diceva che anche in tempi di guerra non hanno chiuso. E' vero, oggi però c'è una pandemia. La questione del coronavirus è che fa paura perché c'è il contagio. La guerra era un fatto terribile, ma mancava questo elemento, quello del contagio. E allora è quello che purtroppo scatena una serie di cose e che porta evidentemente chi ci governa e ci amministra a prendere determinati provvedimenti. Adesso purtroppo io dall'altro sto per partire per Milano, perché la mia sede di lavoro è Milano, io lavoro a Mediaset. E lì troverò una regione appunto in lockdown, scatterà da domani e ci saranno grandi difficoltà. Io credo che bisogna affrontarle nel giusto modo queste difficoltà con la speranza appunto di riuscire a contenere quello che oggi è una curva che pare che sia abbastanza alta per contenere questo contagio. Quindi mi auguro che questi provvedimenti, i provvedimenti che scatteranno da domani, riescano in qualche maniera almeno a risolvere una parte di questo problema che si risolverà purtroppo tra un po' di tempo, perché noi saremmo costretti a convivere con questa pandemia, credo ancora per molti mesi. Vi ringrazio molto, grazie per l'attenzione che avete voluto prestare anche a questo libro Il mondo senza io.